lo starter kit per strass è composto da un materiale speciale vellutato adesivo per creare gli stencil un pacco di dieci fogli di pellicola adesiva acrilica per raccogliere gli strass una spazzolina speciale per distribuire gli strass nello stencil una bustina di 1440 cristalli di 3 millimetri e una pinzetta speciale che serve per raccogliere gli strass singolarmente in caso di necessità ecco come si presenta lo stencil una volta tagliato con il plotter da taglio sul retro ha una pellicola adesiva che ci permette di far aderire al meglio il materiale sul tappetino per poter tagliare con più semplicità una volta distribuiti i cristalli nello stencil con l'apposita spazzola vengono poi raccolti da questa pellicola adesiva acrilica che permette di mantenere i cristalli in posizione per poi poterli trasferire sul tessuto con il calore per sapere come realizzare lo stencil e come fare l'applicazione sul tessuto vi rimandiamo ai nostri tutorial a a a a a a